Gato Dobrik salta, esce addirittura dal campo Riapertura per Markovic, tiro sbagliato Controllo del rimbazzo d'attacco per Venti Il Vildossa non si pensa e fa anche Quadra nella stagione chiusa con il cappotto ai danni dell'Olimpia In panchina c'era Sasha Djordjevic a proposito di Belgrado Singulare su questi vantaggi Bravo ancora una volta, Wimps avere il tempo di prendere Va fino in fondo Vildossa 100 secondi per chiudere il primo tempo Locomitrovic gira l'angolo Vildossa Che meraviglia, che serata, che regalo Vildossa e Markovic che leva dal gioco Vildossa Che rinuncia e dice fate un 4 contro 4 La palla gli torna in mano a vuoto Teodossi Dice altro tiro piazzale per Nedovic Che ha siglato il derby di andata Vittore in casa del Partizan con una tripla Molto spettacolare Ha chiuso con una tripla anche quello di ritorno Ma lì invece che vincere di uno È arrivata la sconfitta di uno Vildossa con una gran giocata